Sta per arrivare qui a Roma, abbiamo trovato questo posto meraviglioso, il ministro Enrico Giovannini, ministro all'infrastruttura e alla mobilità sostenibili, al quale faremo un'intervista per la prima volta per UIL. Rompiamo un tabù per quanto ci riguarda in UIL e per la prima volta facciamo un'intervista alla politica, diciamo così in generale, lo facciamo a un esponente di livello altissimo del governo italiano, abbiamo deciso di farlo per un motivo molto chiaro, vogliamo insieme provare a capire come si gestisce la complessità, che è un tema del quale noi parliamo continuamente, noi parliamo di complessità e di velocità e di come questi due fattori rischiano di buttare fuori troppe persone dal dibattito pubblico, se non spacchettate e con un po' di antidoto che è la creazione di consapevolezza. La nostra community di UIL sono un milione e otto di persone tra varie piattaforme, nell'80% dei casi hanno meno di 35 anni, quindi sono dei giovani che tradizionalmente non leggono le notizie o che nella maggior parte dei casi non sono assidui lettori delle notizie, ma che cercano comunque di comprendere quello che succede. Allora noi per rompere questa complessità parliamo di quattro cose, parliamo del cambiamento demografico, di un cambiamento tecnologico, del cambiamento che abbiamo tutti noi nella nostra sensibilità al cambiamento climatico e ovviamente come cambia il modo di produrre valore economico. Questi quattro cambiamenti si portano dietro quattro lotti, diciamo così, quattro modi di vedere la società, una società sempre più equa, quindi con la lotta alle discriminazioni, una società più sostenibile naturalmente, una società con un nuovo motore economico e una società data-driven, dalla quale, come dire, possiamo provare a partire in questa nostra chiacchierata proprio sul concetto di importanza del dato per comprendere quello che succede. Lei parla nel suo libro della scienza dello Stato, no? Se non ricordo male. E noi creiamo fortemente, diciamo, nel ruolo e nell'importanza del dato per capire che cosa succede, anche per come vengono prese le decisioni intorno a noi. Quindi questo è il nostro aspetto più importante, il tema, ad esempio, di un'equità tra le generazioni, che adesso è stato anche introdotto a livello di Costituzione. Quell'equità è anche, io sono un grande fan del digitale, quindi possono essere infrastrutture digitali, digitali, immateriali, mettiamolo così, ma anche infrastrutture fisiche, perché se è vero che i talenti sono equamente distribuiti in giro per il mondo, l'opportunità non lo sono, non lo sono altrettanto. Qua c'è il ruolo del governo che può mitigare, no? Quei gap nella distribuzione delle opportunità. Il primo, forse, principale aspetto, appunto, sono quelli delle infrastrutture per andare a chiudere quei gap. Penso al gap nord-sud, ad esempio, che può essere nel piazzone 1. Sì, ecco, per esempio, su uno di questi nostri temi importanti, la società più equa, è impossibile parlare di questo e di parlare di infrastrutture senza affrontare il tema di vario nord-sud. In questo momento uno studente che vuole, fuori sede, che vuole tornare a casa da Milano a Palermo, ci mette 14 ore in treno, da Milano a Lecce 15 ore in autobus. Ora, ovviamente sappiamo che con i fondi del PNRR ci saranno molti investimenti per creare nuove infrastrutture, alta velocità, nuove stazioni. Ecco, io mi chiedevo se oltre alla creazione importantissima di infrastrutture ci sarà anche un tentativo di intervento sui prezzi, per esempio, per rendere accessibili questi nuovi servizi anche a quelle parti della popolazione che al momento non potrebbero permettersi un treno ad alta velocità nord-sud. Quindi ecco, come possiamo rendere, diciamo, queste nuove infrastrutture anche accessibili a gran parte della popolazione? Distinguiamo tra le infrastrutture fisiche o le infrastrutture, come le chiama anche qualcuno proprio per il digitale, che sono dei beni pubblici, sono in qualche modo finanziati dai fondi che derivano dalla tassazione, pensiamo appunto alla costruzione di una linea ferroviaria e così via, dalla gestione di quel servizio. Perché la gestione di quel servizio, secondo le regole europee, è messa a concorrenza e quindi a gara con operatori che su quell'infrastruttura operano, per esempio, in Italia, Italo piuttosto che Trenitalia. E proprio perché c'è una componente molto forte di mercato, i prezzi sono determinati dalle condizioni di mercato. Questo vale per alcune linee ferroviarie, alcune tratte, per esempio l'alta velocità, altre invece, gli intercity, hanno un accordo tra il governo e Trenitalia. Altri ancora sono quelli regionali, con una competenza regionale. Insomma, il quadro è abbastanza complesso. Il punto cruciale, che però vale per le ferrovie, ma vale per tutti gli altri mezzi di trasporto, è che noi abbiamo bisogno di aumentare il numero di persone che usano questi mezzi di trasporto pubblico e così facendo è possibile anche immaginare una riduzione dei prezzi unitari, perché aumentano i volumi complessivi. Ed è qui dove, accanto alle infrastrutture, accanto alla qualità del materiale rotabile, i vagoni, delle stazioni, il cambiamento passa per la nostra testa. In un recente dibattito, una professoressa del Politecnico di Torino mostrava come il car sharing viene utilizzato esattamente lungo le tratte dove ci sono gli autobus. E quindi si domandava, ma il car sharing soppianta o si aggiunge al traffico, chiamavano privato, o addirittura a quello pubblico. Evidentemente i cittadini pensano che il servizio su quelle tratte non è all'altezza delle loro aspettative e quindi scelgono il car sharing invece che la propria auto. Ma non è questo che noi vogliamo. Vogliamo un cambiamento profondo a favore del trasporto su ferro, a sfavore di quello su gomma, e comunque a una integrazione tra i gare e i mezzi di trasporto. Dopo che non so se la deludo, ma lei per quanto passi all'alta velocità, da Milano a Palermo o a Lecce, comunque ci metterà diverse ore. Quindi il tema del confronto con l'aereo in attesa di hypertransfer, e quindi dei tubi a vuoto d'aria che vanno a mille chilometri all'ora, il tema dell'uso del tempo nei trasporti resterà per quello studente, ancora per un po' di tempo. Abbiamo chiesto alla nostra community di pensare ad alcune domande che avrebbero avuto piacere di... Le risposte o no? No, solo le domande, ma le risposte sono le più varie, diciamo così come le domande. Una è molto, come dire, locale, molto specifica. Ci chiedono se ci sono dei progetti per le ferrovie del Salento, che è un tema molto specifico, diciamo così, ma ho trovato interessante, sicuramente molto sentito. Il Salento è un luogo veramente molto bello, che tra l'altro ha attirato il turismo giovanile e non solo. Lì c'è un elemento legato alla co-gestione di diverse tratte da parte di diverse società, e quindi è un po' più complicato di altre tratte. Quello che però dobbiamo capire è che l'integrazione tra i vari mezzi di trasporto, e quindi anche tra le società, passa per le piattaforme digitali. E quindi la necessità o l'opportunità di poter fare, come noi talvolta facciamo interrogando i motori di ricerca, io voglio andare dal punto A al punto B, dimmi tu qual è il modo migliore, migliore? Che vuol dire migliore? Più rapido? Meno costoso? A minore impatto ambientale? Ecco, le piattaforme che sono in fase di sviluppo, cosiddetta mobility as a service, dovrebbe dare tutte queste informazioni e consentire all'utente potenziale, con un click, di acquistare i biglietti di tutte le tratte, e non soltanto di una tratta per poi passare su un'altra piattaforma. Ma questo salto è un salto assolutamente difficile sul piano tecnologico di governance, perché poi i dati sono detenuti da diversi soggetti che devono condividerli e così via. Ed è un tema sul quale PNRR investe, e proprio in questi giorni con il Ministro Colau abbiamo deciso che probabilmente proveremo a sviluppare una piattaforma nazionale, che non necessariamente sostituirà le piattaforme locali, ma pensate di nuovo al mezzogiorno dove magari le strutture pubbliche non hanno la capacità di sviluppare piattaforme integrate, state of the art, come si dice, e potrebbero invece usare questa piattaforma, magari integrandola a loro volta. Di nuovo, tecnologia, governance, innovazione, sono le tre dimensioni che anche nel libro che lei citava sono ineliminabili per fare il salto di qualità che vogliamo, per i trasporti ma in generale per tanti fenomeni. Ministro, torno invece ancora un po' più duramente, dico io, sul tema dell'equità e soprattutto del mestieraccio che le tocca a fare. Il mestieraccio è bellissimo, il mestieraccio, il mestieraccio. Però è una po' tra una scomade, te lo direi, il mestieraccio, nel senso che io ne cogo il fascino, dall'altra parte cogo anche l'enormità della sfida di qualsiasi provvedimento che voi prendete come ministro, perché vedo le infrastrutture come una delle aree più delicate in assoluto, qualsiasi cosa venga fatta, tendenzialmente crea da una parte dei vantaggi, ma sicuramente un qualche sconfitto sociale, perché una strada passa di fronte ad una casa è una strada che porterà grandi benefici a qualcuno, ma quel qualcuno che invece si vedrà passare di fronte probabilmente non sarà contento. In questo senso dico mestieraccio perché sicuramente si crea anche tanto malcontento. Ora, nella storia d'Italia questa cosa ha dato vita anche a diversi conflitti sociali. Voi state in questo momento programmando uno dei più grandi piani di investimenti, forse nella storia repubblicana, perlomeno in infrastrutture. Come vi state rapportando alla questione appunto delle possibili tensioni sociali? Perché in questo momento magari ancora la gente vede solo gli stanziamenti, però a breve poi qualcosa si muoverà, immaginiamo, e si inizieranno a muovere ruspe, scavatori. Come state approcciando questo delicatissimo, secondo me, in questo senso dire mestiere, questo è il vostro lavoro? Ma è proprio questa la bellezza di questo mestiere in questa fase storica. Quando ho deciso di cambiare il nome del ministero, introducendo la parola sostenibili, da attribuire sia alle infrastrutture che alla mobilità, in diversi mi hanno detto ma chi sono le infrastrutture sostenibili? Proprio perché in Italia c'è un'idea che queste due parole rappresentino uno simoro. Non è così perché il G20 alcuni anni fa ha definito quali sono i criteri per programmare e realizzare infrastrutture sostenibili. Uno di questi è esattamente il coinvolgimento dei cittadini. Per questo io ho voluto reintrodurre nel sistema di dibattito pubblico per le infrastrutture proprio in senso tecnico un dibattito pubblico secondo regole chiare, che non è la chiacchiera da bar. Prendiamo un esempio dei dieci che attualmente sono in attività in Italia, anzi due già si sono completati, si sono conclusi. La tangenziale ferroviaria di Trento verso il Brennero. Hanno partecipato migliaia di cittadini, sia attraverso i social media che gli incontri. Sono stati prodotti oltre 50 documenti tecnici, quindi non è la chiacchiera da bar. Tu mi devi scrivere che cosa non ti piace ed eventualmente una soluzione alternativa con un approccio molto diverso al passato, e cioè quello va fatto. Discutiamo come, per minimizzare e così via. Ma questo cambia rispetto all'idea lo facciamo o non lo facciamo. Chiaramente nel momento in cui si è assunto la decisione di farlo, tanti fattori sono entrati in gioco. Pensate alle restrizioni che in Austria e in Germania sono state imposte al passaggio dei TIR proprio in nome della riduzione dell'inquinamento, delle emissioni, in particolare di gas o comunque di sostanze inquinanti. Dunque qual è l'alternativa? Che passiamo per la Svizzera, passiamo a qualche altra parte, oppure facciamo veramente il salto sulla ferrovia? Beh, se lo vogliamo fare, stiamo investendo miliardi per fare il tunnel del Brenner e così via, dobbiamo porci il problema di come saltare il nodo di Trento. Allora, l'esperienza fatta in questi mesi di questi dibattiti pubblici al momento è estremamente positiva, perché sono state date delle linee guida chiare, una metodologia, l'indipendenza del coordinatore del dibattito pubblico che poi fa una relazione, tempi ristretti e non lunghissimi. Abbiamo imparato dalla Francia, abbiamo imparato da altri paesi. Ecco, in questo senso spero che questo sia un salto importante, ma non basta. E quindi ci stiamo dati delle regole, per cui prima di dire sì a un progetto, dobbiamo andare a guardare l'impatto non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Abbiamo immaginato un modello di scoring con diversi indicatori, e quindi per dire sì a un progetto, per ora ferroviario, ma stiamo per pubblicare quello stradale e poi via via per le altre infrastrutture, il progetto deve superare una sorta di test. Infine, ma non meno importante, abbiamo fissato le regole per i progetti di fattibilità tecnico-economica, cioè i progetti sulla cui base si fanno le gare. Per esempio ci deve essere una relazione di sostenibilità con la componente sia ambientale che sociale, così che prima di decidere con quale impresa io farò quel progetto, posso vedere che materiali conta di usare, cosa pensa di fare ad esempio per ridurre l'impatto nelle case, limitrofe alla ferrovia o all'autostrada. Questo è un cambiamento che ci piacerebbe, mi piacerebbe molto, restasse nel tempo e allora quel mestieraccio, come lei ha detto, si tramuterebbe in un contributo, in un cambio di paradigma. Se posso, questo è esattamente quando noi diciamo una società più data-driven, questo sia in termini di trasparenza, sia in termini del che cosa guida le decisioni, la partecipazione delle persone e poi la trasparenza nel dire ho preso una decisione su questo, questo e questo parametro dato e l'informazione e poi a un certo punto la decisione va presa, mettiamola così, ma almeno sia trasparenza. Lei è convinto che dopo aver descritto tutti i dati, quel cittadino di cui lui parlava gli diceva, va bene, allora mi hai convinto? Non sono certo che succeda, ma sono certo che complessivamente si può abbattere la sfiducia se si ha la trasparenza proattiva, però andando verso e non vieni a casa mia che da qualche parte trovi quell'informazione nel dire ti dico come ho preso questa decisione, poi magari non sei d'accordo, però io non ho mai fatto questo bellissimo mestiere, c'è un punto sostanziale e cioè che alla fine qualche decisione va presa, attenzione, e uno deve darsi dei parametri che non sono necessariamente quantitativi, perché lei non riesce a misurare tutto e a Genova stiamo costruendo il terzo valico per portare le merci dal porto di Genova verso il nord, insomma veramente una grandissima operazione. Questo vuol dire recuperare uno spazio e linee sedimi ferroviari dismessi, per cui se tutto va come deve andare, su quel tratto di Genova cittadino passeranno decine di treni merci al giorno. Il Campasco, ecco, lì ci sono delle case che rischiano di essere a tre metri, cinque metri dal… Puoi accettare di spiegare al cittadino, no ma noi abbiamo fatto tutti… No, devi prendere la decisione che per esempio tutte le case che stanno all'interno di un certo intervallo vanno in qualche modo espropriate, trovata una soluzione al cittadino, vanno abbattute, trasformate… Questo è un costo aggiuntivo per l'opera? Sì, certo, ma stiamo parlando di un costo che rappresenta forse l'1% dell'intero progetto? Beh, l'1% per centinaia di famiglie vale la pena spenderlo. Ecco, quindi stiamo anche provando a cambiare non solo i dati, ma gli elementi sulla cui base si prendono le decisioni e qualcuno dovrà decidere a un certo punto che appunto sono 10 metri piuttosto che 12, 15, e lì sarà difficile spiegare perché chi rimane, chi è obbligato a restare lì perché sta a 12 metri e un centimetro e chi invece a 11 metri e 99 può allontanarsi, beh, sarà difficile. Torna adesso a un mestiere difficile a quel punto. Assolutamente. C'è un pezzo ulteriore, diciamo, che è interessante perché questa è la gestione della decisione, forse è esattamente il motivo per cui siamo qua, cioè comprendere qual è la visione, no? È il motivo per cui a 12 metri si detta la linea o perché si decide che questa infrastruttura ha un senso e poi c'è quella ulteriore idea del dire mi faccio io proattivo di cambiamento, cioè elemento proattivo del cambiamento, quindi favorisco un cambiamento con una spinta, diciamo così, e questo può avvenire ovviamente su grande scala, come può succedere su una scala più limitata. Complicato anche qua, come dire, sospingere un po' il cambiamento perché questo accada senza condividere una visione in maniera più chiara. Mi ha assolutamente ragione. Eravamo a firmare l'accordo per il nuovo Conservatorio di Milano che oltre alla sua sede storica avrà questa nuova area nel parco di Rogoredo, famoso per la droga, che hanno tutti gli impegni per evitare appunto che quel luogo degradasse, sono stati compiuti. E proprio presentandolo io facevo notare come questo è un progetto importante di riqualificazione urbana che noi finanziamo, ma la rigenerazione urbana passa per le comunità. Cioè io Ministero non la faccio la rigenerazione urbana, non a caso abbiamo chiamato la direzione riqualificazione, la rigenerazione la fa la comunità. Per questo nei 159 progetti PINQA del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, progetti di rigenerazione urbana in tutta Italia, abbiamo voluto farne oggetto del primo volumetto sul PNRR indicando con i rendering di tutti i progetti alle comunità locali l'informazione. Guardate che qui cambierà qualcosa, così che se stessi si preparino al cambiamento, perché non è solo il cambio delle mura che fa la differenza. Ecco in questo senso c'è dietro sì una visione, che non è solo la visione di vivere in luoghi non malsani, con le strutture, ma è la visione di una politica che ha diverse gambe, ha diversi strumenti, ha diverse braccia, ha diversi ruoli. Ed è qui dove credo la mia precedente esperienza appunto di animazione della società civile mi fa venire naturale dire noi arriviamo fino a un certo punto, poi aspetta voi. Ma anche qui i dati sono fondamentali. Se guardiamo le esperienze di Chicago, di Boston e altre città, ma adesso anche grazie a un italiano, a Francesca e a Bria, anche a Barcellona, i dati condivisi con per esempio la società civile e i cittadini sono stati il generatore di cambiamento, magari aiutando anche le politiche. Quindi in questo senso, quando all'epoca appunto si parlava di statistica come scienza dello Stato, Stato delle cose, ma anche Stato con la S maiuscola, io cominciai a parlare di societistica, che non funziona in italiano. In francese funziona un po' meglio e cioè scienza della società, perché i dati servono per tutta la società, non solo per il decisore pubblico. A me viene in mente tra l'altro, ovviamente, è chiaro che ci sia anche una visione dal punto di vista della sostenibilità che passa anche per il cambiamento del nome del Ministero. E per ricollegarci a quello che dicevamo prima, i treni supersonici che stiamo aspettando prima o poi arriveranno, in questo momento ancora le tratte sono molto lunghe. Quando tra l'altro abbiamo fatto un post su questo tema, persone dalla nostra community avevano commentato dicendo sì, benvenga al treno supersonico, poi per ora siamo ancora molto in ritardo sui treni regionali, un treno di 10 minuti che ha un ritardo di 45 minuti. E poi, diciamo, c'è l'altro aspetto di cui parlavamo, del fatto che la competizione sicuramente può aiutare, diciamo, ad abbassare i prezzi e a rendere più accessibili dei servizi. Ecco, in questo senso si parla spesso di nudge theory, cioè questa idea che aumentando, diciamo, le opportunità di fare la scelta giusta dal punto di vista climatico e ambientale, le persone poi prenderanno quella scelta. Quindi, per esempio, in questo momento sappiamo che dovremmo cercare di ridurre il più possibile forse gli spostamenti aerei, almeno all'interno del nostro paese, e aumentare invece, sostituirli con spostamenti ferroviari. E quindi la domanda forse era anche in quel senso, cioè come facciamo a rendere più accessibile fare la scelta giusta? E, allo stesso tempo, come facciamo quando ci sono ancora dei sussidi, per esempio, che vengono dati ingenti sussidi a compagnie low cost per viaggiare magari su aeroporti minori e che rendono ancora possibile avere un volo Ryanair che costa 8 euro per andare da Milano a Bari? Ecco, come vede, diciamo, queste difficoltà e questi fattori? Beh, in questo ragionamento ci sono, non so, n questioni diverse tra loro interrelate, provo a rispondere. Dobbiamo anche superare gli stereotipi. Noi ci siamo posti, ci stiamo ponendo il problema della sostituzione delle tratte aeree nei casi in cui con un altro mezzo di trasporto il treno si riesca ad arrivare entro due ore, due ore e mezza. Detta così, oddio, ma allora mi tolgono, sa quante sono le tratte potenzialmente interessate da questo cambiamento? Tre. In tutta Italia. Perché l'Italia è stretta e lunga. Quindi, anche a causa appunto di una rete ferroviaria che è sviluppata nel centro-nord, solo una parte, ma non nel sud, alla fine ce lo poniamo questo problema, ce lo siamo posti, ma non è che fa la grande differenza. Anche perché in molti casi questi voli sono voli in realtà di connessione con voli internazionali. Diverso è il caso e la questione invece dei pregiudizi che noi abbiamo rispetto a certi comportamenti. abbiamo studiato, stiamo studiando per esempio i pregiudizi rispetto all'auto elettrica e sono pregiudizi forti per le persone della mia età che per esempio hanno guidato o gli è stato insegnato a guidare in un modo per un motore endotermico che non è il migliore per un motore ibrido o elettrico, che vuol dire che bisogna cambiare. un esempio per tutti, a noi è stato insegnato che quando parti da un semaforo vai progressivamente, non acceleri subito. Sbagliato. Perché con il motore elettrico ti conviene accelerare subito e poi andare con l'abbrivio. È una banalità, ma guidando una macchina ibrida mi sono reso conto di come ho dovuto cambiare radicalmente anche perché il motore è il cambio automatico. Per la prima volta guido una macchina il cambio automatico. Allora questi pregiudizi, questi preconcetti vanno superati usando appunto il nudging, la spinta gentile, non dicendo tu non sai guidare. Quindi, no? E in questo senso ci sono una serie di strumenti che vanno inseriti nel momento in cui per esempio si fa scuola guida. non è che poi ci devi pensare dopo. Vi racconto una cosa divertentissima, non lo so insomma se è divertente. Abbiamo definito le nuove linee guida, aggiornando le vecchie, per le scuole guida. Non so se voi avete preso la patente, ma insomma è obbligatorio avere una sezione del motore. Che motore ci mettete? Come era prima. Ma che motore ci mettete? Elettrico o endotermico? Beh, elettrico, che è molto più semplice, oggi è appannaggio di pochi, ma ti dà l'idea che quello è il futuro, che sei tu che arriverai lì. Se invece ti spiego un motore endotermico, tu percepisci che quella è la normalità e che il motore elettrico che è l'anomalia. Potrei citarvi n casi di questo tipo. Allora, accanto alla tecnologia, accanto ai dati, accanto alle scelte politiche, c'è molto da fare per, appunto, superare questi pregiudizi. E infatti nel Ministero faremo nascere una piccola unità di nudging, per aiutarci a cambiare le scelte di default, come appunto Thaler e Sunstein ci hanno insegnato, e tutti i teorici del nudging, perché è possibile cambiare in modo gentile, appunto, non aggressivo. Posso chiedere, Giusto, se oltre all'elettrico ci sono anche altri temi su cui concentrerete il vostro nudging? I principali? Beh, un esempio per tutti è proprio quello del trasporto pubblico locale. Secondo gli studi sulla felicità, il momento del commuting è il peggiore della giornata. Non so voi come lo vivete, ma gran parte delle persone dicono quello è il peggiore della giornata. Quindi, paradossalmente, se noi riuscissimo a ridurre quel tempo o a renderlo più piacevole, daremmo il più grande contributo alla felicità dei nostri cittadini, anche se quello è un elemento minore, apparentemente, del benessere complessivo delle persone. Che cosa ci aspettiamo noi da un mezzo pubblico? La tempestività, la frequenza, la disponibilità sempre comunque quando dico io, per cui se non c'è allora continua a usare la macchina? Negli studi che stiamo facendo sull'atteggiamento verso l'acquisto, per esempio, dell'auto elettrica, ci accorgiamo di una serie di stereotipi, e pensate a quelli poi degli autotrasportatori che devono investire molto di cose estremamente complicate, a come è possibile applicare tutto questo anche al trasporto pubblico locale, sapendo che veniamo da due anni di convinzione che l'autobus è un luogo di rischio per il Covid, quando i dati non dicono esattamente questa cosa. E quindi molte persone sono tornate a usare la macchina privata e adesso dobbiamo ricondizionarle, se posso usare questo termine, per riportarle a dove erano prima del Covid. L'aumento dei prezzi della benzina è un booster in questa direzione? Per tornare alla questione dati, io ho chiesto all'Istat proprio in queste settimane di fare un'indagine tra gli italiani per capire come la fine ufficiale del periodo di emergenza pandemico, oppure l'aumento del prezzo del petrolio, della benzina, stanno e cambieranno i loro comportamenti nei prossimi tre mesi. L'abbiamo fatto l'anno scorso, verso giugno, verso settembre, nei confronti di settembre, e questo ci ha aiutato molto a programmare i servizi aggiuntivi. Sono molto curioso di vedere questi risultati, se questo indurrà un cambiamento, sta inducendo a un cambiamento per i prossimi mesi. Posso, stravago un po' la scaretta solo perché ho sentito dire trasporto pubblico locale e abbiamo una fissa, io e Alessandro, professore ancora no, da un po', abbiamo due podcast, uno che parla di innovazione e un altro che parla di città, di città che cambiano. Uniamo i puntini, trasporto pubblico locale, non possiamo non fare una domanda su Uber e taxi. A che punto siamo? Dove stiamo andando? No, perché poi mi piace, sono tremendamente affascinato dall'approccio anche appunto data-driven di cui ci sta raccontando anche che avete nel prendere queste scelte e anche poi forse anche la necessità di avere coraggio a un certo punto di prendere scelte che comportano anche degli sconfitti, la creazione di sconfitti. A che punto siamo? Due, tre preconcetti e in questa domanda li ho visti molto forti. Probabile. Primo preconcetto, che cos'è il trasporto pubblico locale? Che cos'è? È un modo che… Sì, ma cosa comprende? Aiuto, perché il trasporto non di linea, giusto? Cioè il non di linea sono i taxi e l'NCC, diciamo… È un po' lo stesso argomento che ho usato con i dirigenti del ministero quando ho cambiato nome al ministero. Se noi ragioniamo di trasporto e non di mobilità, di mobilità, non di immobilità, di mobilità, ma siamo in un paradigma vecchio, perché oggi la mobilità è fatta, come dicevo prima, di tanti segmenti, compresi magari il taxi o l'NCC insieme a altri pezzi. Pensiamo poi alle nuove tecnologie di guida autonoma, no? Non so se avete letto sui siti questa notizia che la polizia di Los Angeles ha fermato un'auto a guida autonoma e non sapeva che fare, chi multare, che cosa farne. Lo dico perché se ragioniamo in un'ottica di mobilità come servizio e quindi piattaforme che mettono in connessione la domanda e l'offerta, in questo caso di trasporto, di mezzi di trasporto, forse non c'è bisogno di identificare chi sarà il vincitore e chi sarà il perdente, perché tutti potrebbero guadagnare un pezzetto rispetto all'attuale situazione. Negli Stati Uniti recentemente hanno firmato un accordo per cui i tassisti useranno la piattaforma Uber dopo anni di conflitti. Ieri ho ricevuto un messaggio per cui il ATAC a Roma ha lanciato un'app che ti mette in contatto con il tassista più vicino, che non è molto lontano dall'Uber. Cioè quello che intendo dire è che se stiamo nella logica attuale dei livelli di utilizzo delle diverse metodologie ed è tutta una battaglia tra due gruppi per strapparsi un pezzetto del mercato attuale, è chiaro che non andiamo molto lontani. Ma se invece, come per il trasporto pubblico locale, il concetto di mobilità locale è basato su questi nuovi punti di vista, forse la torta si allarga per tutti. E dunque la percezione non è quella di perdere rispetto a qualcun altro, ma comunque di guadagnare qualcosa. Sono molto d'accordo e anzi ringrazio per un inquadramento che sicuramente mi aiuta nell'approcciare meglio questo discorso. Però ho solo un punto. Ho solo un punto. Il quadro si fa più ampio, sono molti di più i pezzettini del puzzle che oggi vanno messi assieme e tutti potrebbero avere qualcosa da guadagnare proprio da questa varietà. Il tema però è la possibilità di poter giocare in quel campionato perché sono d'accordissimo con lei con il fatto che poi il tutto si bilancerà in qualche modo. Ed è qua quindi che viene in qualche modo anche la mia domanda. C'è oggi un approccio di lasciare la possibilità di giocare in questa parte? Questo è il tema delle licenze ed è molto variegata in giro per l'Italia. È poco trasparente anche. Per cui il secondo elemento è che la licenza ha un valore che è molto soggetta al fatto che entrino nuovi giocatori in un'ottica soprattutto che vede quel mercato dividersi una torta prefissata. Quindi io credo che serva un approccio un po' diverso e cioè impegnarsi in primo luogo per dare queste nuove opportunità e dunque consentire di giocare un nuovo gioco piuttosto che giocare prima un gioco, vedere qualcuno buttato fuori e poi cambi il gioco, quello si arrabbia doppiamente perché è stato buttato fuori con un vecchio gioco e con le nuove regole invece sarebbe ancora in gioco. Il tema è estremamente delicato, estremamente complesso. Noi stiamo guardando anche cosa sta accadendo in altre parti del mondo proprio per riuscire a cogliere degli spunti che ci facciano uscire dal modo usuale di discutere anche di questo tema. Se posso mi butto nella mischia su questo ci sono almeno due aspetti molto interessanti. Uno è il fattore tempo e l'altro torniamo alla questione della visione. Cioè se io dico la visione della mobilità all'interno di una città è ridurre l'uso della macchina dell'auto privata e quindi qualunque altra cosa interessante allora è chiaro che si mette al centro l'utente e si dice facciamolo uscire di casa con fiducia del fatto che può uscire senza la propria macchina fare tutte le sue cose durante la giornata e tornare a casa di nuovo senza la sua auto privata e non aver mai il problema di dire sono rimasto col cellino in mano. Prima era molto interessante quello che diceva della professoressa del Politecnico dove la mia risposta sarebbe togliamo quel bus e lasciamo solo il car sharing se fanno lo stesso pezzo e mettiamo quelle risorse pubbliche magari in un altro pezzo di città dove il car sharing non arriva. Quindi sicuramente è una condivisione di dati e condivisione anche un po' delle regole perché col mercato del valore delle licenze si è creato nel corso del tempo diciamo così e condivido la mia visione. Il secondo tempo però, il secondo fattore è quello del tempo cioè anche prima si parlava del nudge, del cambio, della sostituzione e delle tre rotte possibili dove l'aereo e il treno potrebbero essere sostituiti l'uno dall'altra ricordo la rinata Fiumicino, ultimo monopolio su una rotta in Italia ora che è stata liberata quella rotta, nel frattempo il treno è diventato molto più interessante quindi quella rotta oggi è di meno, altrettanto Uber è da dieci anni ormai che lotta in giro per il mondo non dico dell'Italia, combatte in giro per il mondo su questi temi rischia che ormai l'app, quell'innovazione tecnologica che aveva portato è meno rilevante se l'Atac può fare la sua integrazione eccetera quindi credo che sia necessario proprio perché il cambiamento è sempre più veloce riuscire a condividere in maniera molto più forte la visione e anche dire con questa visione servono delle regole diverse probabilmente e fare in un determinato arco di tempo per raggiungere degli obiettivi altrimenti si rischia di lasciare che le cose poi succedano in una maniera diversa questo è certamente vero, tanto per complicare la sua analisi è che i decisori sono molti perché ogni sindaco ha la responsabilità nel proprio comune e poi pensiamo alle regioni che hanno la responsabilità di programmazione del trasporto pubblico locale e poi pensiamo allo Stato, molto complicato effettivamente molto complicato quello che però può aiutare nel prendere le decisioni forse sono quattro elementi il primo elemento ha a che fare con l'investimento nei cosiddetti low regrets cioè investimenti, pensiamo alle tecnologie dei motori quegli investimenti che riducono i vincoli una volta che uno ha fatto l'investimento se io ho scelto per le navi il GNL o l'idrogeno e poi si decide di andare a vela faccio un esempio per tutti, io ho distrutto i porti inutilmente e ci sono scelte in qualche modo non così drammatiche come quella che ho appena raccontato ma che effettivamente richiedono una visione che non è detto che sia quella giusta secondo elemento il mercato un mercato regolamentato è indispensabile per cogliere l'innovazione, per favorire l'innovazione una innovazione che magari non è a beneficio di chi l'ha fatta ma di chi ci ha aggiunto magari quel quid che ha reso quella invenzione, quell'innovazione da nicchia a ampio mercato terzo elemento la collaborazione interistituzionale che si porta dietro il tema dell'assetto dei poteri tra poteri centrali, regionali, a livello locale con una divisione dei compiti che è molto rigida perché è fissata nella Costituzione e che non necessariamente evolve con la rapidità necessaria arriva all'alta velocità, la gente si sposta più facilmente da Firenze a Bologna le persone hanno deciso di andare in una città piuttosto che in un'altra sono due regioni diverse in cui il trasporto pubblico locale non è integrato il quarto aspetto direi è la consapevolezza degli individui su che cosa e come possono contribuire a degli obiettivi complessivi un esempio per tutti con il piano nazionale di ripresa e resilienza e gli altri investimenti alcune grandi città saranno soggette a moltissimi lavori nei prossimi quattro anni con l'interruzione di linee di tram, linee ferroviarie in attesa che il potenziamento tecnologico delle ferrovie consenta per esempio di passare da treni da un'ora a 15 minuti a livello regionale come gestisco il cambiamento? vado in piazza ogni giorno perché appunto in nome del fatto che oggi i servizi sono peggiorati nonostante magari servizi sostitutivi o ho la lungimiranza di dire ok contribuisco a un cambiamento profondo perché l'ho capito perché magari l'ho dibattuto e dunque accetto un po' di penalizzazione adesso in nome di un miglioramento ma non tra vent'anni, tra tre anni e qui la politica fa la differenza perché le persone fanno la differenza Sì, io sicuramente sono d'accordissimo sul fatto che sia la politica abbia bisogno di essere più lungimirante con degli investimenti magari che non danno ritorno nel breve, medio termine, magari più a lungo termine e così allo stesso modo i cittadini devono riuscire a vedere quella visione e ad adottarla al loro modo in questo senso però torna al tema della trasparenza il tema della responsabilità io ho visto una sua presentazione del 2012 in cui citava Keynes che diceva che la cosa che i politici odiano di più è essere informati e parlava appunto di come sia importante diciamo dal punto di vista dei cittadini non vivere questa simmetria di informazione cioè sapere, poter monitorare attraverso dati e informazioni in tempo quanto più reale possibile l'operato dei propri governanti ecco adesso lei è dall'altro lato e lato nostro diciamo sul PNRR per esempio gli investimenti per il suo ministero non vedremo quest'anno già dei benefici materiali si tratta per lo più di snellimenti assegnazione di fondi eccetera eccetera quindi mi chiedevo lato suo come state cercando di rendere il più chiaro possibile e il più trasparente possibile l'operato del vostro ministero cosa possiamo fare noi e come possiamo noi monitorare il vostro operato il nostro ministero ha delle sfide enormi e una delle sfide è che molte delle infrastrutture che verranno realizzate verranno realizzate nel 2026 quindi un po' in zona cesarini rispetto alle scadenze del PNRR quello che stiamo provando a fare è aumentare la trasparenza il più possibile di che cosa stiamo facendo che non è propaganda attenzione il 31 marzo abbiamo pubblicato il primo rapporto dettagliato sull'attuazione del PNRR dove ci siamo presi un rischio importante e cioè i cronoprogrammi dei vari progetti comprese le date entro le quali o vengono fatte le gare oppure l'opera diventa il rischio abbiamo offerto dunque su un piatto d'argento a chi vorrà criticare il ministro del momento me o qualcun altro per aver bucato le date non so se siamo stati l'unico ministero ma non è importante perché è bene ed è necessario che i cittadini si rendano conto delle scadenze chiave ma è anche un tentativo per andare oltre le solite domande che i giornalisti ti fanno solo perché un altro giornalista ti ha fatto quella domanda e pensano bene una delle domande che continuamente mi vengono poste ma le amministrazioni del sud riusciranno a fare le opere del vostro ministero come se la Salerno Reggio Calabria dipendesse dal comune dove passa la linea no, quella è Rete Ferroviaria Italiana una delle eccellenze italiane a cui abbiamo dato il compito di fare una delle cose più complicate che si potevano immaginare dunque prenditela tutto il più con Rete Ferroviaria capite cosa intendo dire c'è una certa superficialità nel modo con cui si discutono queste cose e l'altro sforzo molto difficile che stiamo cercando di compiere è che c'è vita oltre il PNRR e al di là del PNRR e quindi nel nostro caso nell'ultimo anno abbiamo dedicato alle infrastrutture stradali, autostradali, idriche eccetera non i 61 miliardi del PNRR ma 104 miliardi con investimenti fino ai primi anni del prossimo decade per esempio nel PNRR non c'erano gli investimenti sulle strade abbiamo messo 10 miliardi sulla manutenzione stradale che poi si lega con il piano sulla sicurezza che poi si lega con l'accesso alle aree interne riuscire a dare questo senso sistemico è uno sforzo, non so, devono decidere gli osservatori quanto ci stiamo riuscendo il prossimo documento di economia e finanza rappresenta un salto in questa direzione tra l'altro in una tavola singola in cui proviamo a mostrare le pianificazioni ferroviaria, stradale, ciclistica eccetera le riforme sul settore ferroviario, stradale e gli investimenti perché alla fine riforme, pianificazione, investimenti sono i tre ingredienti che poi fanno la differenza Provo a chiudere perché credo che siamo agli sgoccioli su questa cosa che adesso lei diceva con due domande filosofiche diciamo così in un certo senso Per chiudere esattamente se può in quest'ordine la prima è da parte della community Daniele dice la programmazione trentanale tiene conto dello sviluppo delle problematiche sociali dei giovani come focus come dicevamo prima la nostra community ha meno di 35 anni l'80% dei casi lo sforzo più difficile per noi da comprendere come si faccia a pensare con un così lungo periodo di tempo e quindi quanto tiene conto appunto dello sviluppo delle problematiche sociali dei giovani e da ultimo quella che è la la nostra ultima slide in ogni presentazione all'interno di William ci chiediamo sempre what success looks like cioè come facciamo a dire questa cosa è andata bene e quindi come ci monitoriamo lei giornalmente qual è se c'è un parametro che tiene d'occhio per dire va bene questa settimana da venerdì sera diciamo idealmente facciamo finta che dice a 7.30 finisce l'ora di venerdì anche so che non è vero Cominciamo dalla questione giovanile proprio in un evento in questi giorni qualcuno ha detto bisogna assolutamente non cadere nella tentazione del pianificatore cioè se 30 anni fa qualcuno avesse fatto la pianificazione dei trasporti diceva questa persona oggi avremmo un sistema totalmente sballato io gli spiegavo sì lo capisco ma forse è sballato proprio perché non abbiamo fatto una pianificazione all'epoca un esempio per tutti alta velocità immaginata per le persone e non per le merci per cui le gallerie sono state disegnate con una certa conformazione non adatta ai container ecco quella è stata una scelta importante interessante interessante dal punto di vista sbagliata dopo di che ti rispondono sì ma è irrilevante perché la notte devi fare le manutenzioni sull'infrastruttura e quindi comunque i treni merci non ci potrebbero passare un po' complicato tutto questo al punto tale che abbiamo scelto di investire sull'Adriatica come invece direttrice per le merci non solo quindi 30 anni è difficile 10 anni forse è più facile ma è comunque molto complesso perché come si diceva prima la realtà cambia per questo abbiamo fatto un protocollo intesa per sperimentare hypertransfer così come altri elementi quindi avere almeno dei progetti sulla frontiera dell'innovazione per capire dove probabilmente andrai e comunque i ministri non stanno 10 anni in carica quindi tutt'al più qualcuno mi verrà a cercare dopo Com'era il termine? Mandate Mandate Termism Un ministro tecnico è favorito da questo punto di vista perché cerca di essere rieletto quindi cerca di fare al meglio il proprio mestiere ma senza l'urgenza delle lezioni il secondo aspetto invece è quello come si valuta questo vale anche per le cose che ho fatto anche nel passato darsi degli obiettivi ambiziosi di medio termine ma fondamentalmente avere dei pit stop trimestrali o semestrali che servono anche a te stesso in primo luogo ma anche ai tuoi collaboratori per capire e magari darsi un cinque che si sta muovendo con una velocità adeguata quello che mi fa molto piacere in questa esperienza è che il nostro ministero che pure ha delle grandi professionalità non era considerato proprio il fulmine di guerra nell'attuare anche le politiche con i decreti attuativi e così via oggi è considerato invece un ministero che dà risposte e poiché le persone più o meno sono le stesse abbiamo cambiato alcuni top manager se volete però lo spirito è quello anche di confrontarsi continuamente con l'esterno con la consulta che ho voluto con le associazioni imprenditoriali con i sindacati, con le associazioni del terzo settore per farsi dire cosa va e cosa non va in questo senso capire i punti di debolezza posso visto che abbiamo ancora un minuto esatto fare un'ultima domanda che secondo me è cruciale dopo l'ambizione che traspare da tutte le parole che oggi sono venuto a fare in questa discussione abbiamo un milione e mezzo circa di persone con cui parliamo tutti i giorni spesso volentieri infrastrutture e spesso volentieri guardano le infrastrutture in maniera sfiduciata perché le infrastrutture siamo in un paese dell'incompiuto e quant'altro perché questa volta dovrebbe essere diverso lei ministro cosa direbbe a questa pletora di tanti ragazzi e ragazze perché dovrebbe essere diverso questa volta perché dovranno fidarsi? per tre ragioni, primo perché contrariamente al passato in cui prima si davano i soldi e poi si aspettavano i progetti oggi i soldi si danno soltanto a chi ha i progetti secondo ci sono delle date fissate il PNRR ci ha insegnato a fare programmazione precisa con checkpoint trimestrali che non è il modo di fare infrastrutture nel passato terzo elemento la disponibilità di fondi ci dà la possibilità di rispondere in modo più integrato rispetto alla singola opera quindi domandarsi ok io domani riuscirò a portare questa linea ad alta velocità da Salerno a Reggio Calabria ma poi che succede? perché nel frattempo io devo collegare Cosenza ad esempio con l'OION e così via quindi questo sforzo sistemico che proviamo a dare con l'allegato infrastrutture sia quello di luglio scorso che adesso ci aiuta a capire che queste opere non sono elementi singoli sparsi ma sono parte di una visione che ci consente per esempio di collegare 11 aeroporti, 11 porti, 9 centri intermodali e così facendo aver convinto anche la Commissione Europea che il nostro piano sulle ferrovie è il migliore di tutta Europa che non era scontato non male grazie mille torniamo da lei se avrà piacere fra qualche mese su il suo modo di misurare e sul modo di proseguire i lavori del Ministero intero e di nuovo grazie mille per aver voluto condividere con la nostra community questa visione iniziale grazie a voi e complimenti per quello che fate grazie a tutti